Nonostante il secondo tempo con un uomo in più, il Cesena torna con un pareggio 1-1 dalla trasferta in campagna in casa della Salernitana. I Granata più arrembanti nella prima parte di gara segnano al ventesimo con verde. Nel finale di tempo restano in 10 per l'espulsione del portiere Fiorillo dopo il controllo al VAR. Il Cesena ne approfitta subito trovando l'1-1 nel recupero con Tavzan. Un punto dunque per i bianconeri che viaggiano sempre in zona playoff con un pizzico di